molto emozionante vincere un premio al di fuori dell'italia significa che il lavoro che è stato fatto viene apprezzato anche da da altri paesi al di fuori dell'italia ed è veramente una cosa che porta tanto onore felicità per i ragazzi che hanno lavorato a questo progetto a questo cortometraggio che sono studenti principalmente sono tutti quanti studenti di una scuola la maggior parte di loro non sapeva assolutamente come fare computer grafica come fare animazione 3d fino a sei mesi prima per cui 60 studenti in sei settimane hanno realizzato un cortometraggio di qualità abbastanza alta e sono contento per loro insomma il grande master 25 ce l'avete fatta siete riusciti ad arrivare fino in spagna e adesso andiamo avanti che il mondo ci aspetta bella storia tutti quanti quindi fantastico ma io non me lo esperava e per a me è un riconoscimento a tutto il lavoro che lleva il progetto e poi venire qui hanno fatto un tratamento fenomenal e molto bello grazie a tutti noi sappiamo che fare un film animato è un processo molto lungo quindi Dushan che è il principale direttore e animatore ha lavorato sui due anni molto intensamente quindi ovviamente dopo due anni di lavoro è un buon sentimento vedere che le persone riconoscono il film e ricevono un buon feedback quindi ovviamente è un buon feedback come back from the audience, from the jury, from the festival, it's really a rewarding feeling. E' una sensazione molto agradabile. In primer lugar, avere un premio dentro della Comunità Valenciana e che se riconosca il lavoro di che stiamo qui apportando cortometraggio e idei. E' un'esperienza incredibile, è la prima volta che ho arrivato a un festival e ho ricevuto l'avorto che vengono e è davvero bello. Ieri siamo venuti per la progettazione e abbiamo visto la categoria adulta e abbiamo visto tutte le short films, erano davvero bello. mi sono emozionato perché ho pensato che il nostro cortometraggio è in gara con questi altri capolavori ed è assolutamente molto bello. Quindi complimenti a tutti quanti i concorrenti. Grazie per aver portato le vostre idee e la vostra immaginazione. Sono molto variato, sì. Avevo, io credo, molti corti di scuola, però con tecniche molto variate. In 3D, in stop motion e in 2D. ho visto molti filmi qui. Questo è anche un complimento per il festival. È una buona selezione di film. Ho apprezzato molti filmi qui. Quindi, ringrazio a tutti i colleghi, i filmatori. Tutti i membri, tutta la squadra del festival è stato molto bello. E voglio ringraziare tutti. Grazie a tutti. Ho visto alcuni festivali all'Europa. E devo dire che io ho senti davvero a casa. E' stato molto bello e amico. Quindi, grazie. Grazie a tutti per aver guardato. È stata un'esperienza incredibile e un'onore. Per aver guardato questo prize. Grazie a tutti per aver guardato e apprezzato il lavoro. Grazie a tutti per aver guardato il prossimo anno. E vedere le prossime edizioni del festival. E mantenere il buon lavoro. È davvero bello. Que continui così molti anni, no? E' stato fantastico essere qui questi giorni.